Il canto che eseguiamo ora è un canto che faremo la vita di Pasqua, è un canto di padre Michele Bonfitto, la corale di Polcari è legata a padre Bonfitto, quindi non è possibile né pensabile che si faccia un concetto, non ci sia un pezzo anche di Bonfitto, Bonfitto è un modo di collaborare spesso, di Polcari, scritto molto, spesso dopo il concilio Vaticano e tanti canti che l'hanno poi consacrato a livello nazionale, tantissime chiese si cantano tuttora numerosi pezzi scritti da Bonfitto. Il canto è il mio Signore e il canto della gioia della vita di Pasqua, quindi della gioia della risurrezione, quindi mi accorgerete che è un canto strutturato già con l'immagine della Pasqua di risurrezione e la parte finale che verrà cantata, c'è una stroppa da cantata da Paola del Carlo e da Jacopo e Matteo Toschi e che sono nostre, diciamo, nuove eleve, mi chiedete di fargli un applauso. E a proposito di nuove eleve, sfrutto un'occasione che per dire, siccome Don Omerico ci ha detto che dovremmo fare questo semplice per 50 anni, ma dico sì. Quindi chi è interessato a cantare l'idea di sera, noi facciamo le prove, chiunque, donne, uomini, l'avete visto, bambini, chiunque è interessato o l'idea di venire a imparare e cantare, insomma, di gioia, la finalità della nostra azione è quella di rimanere al meglio la rifugia e quello che proviamo a fare. Comunque se abbiamo questo servizio e qualcuno è interessato, se riusciamo. Grazie e buona seconda. Grazie. 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 Grazie.